Hanno gli anticorpi ma non il diritto al Green Pass. Non c'è danno di salute ma sicuramente beffa per i volontari che si sono sottoposti ad aprile alla seconda fase di sperimentazione del vaccino italiano Reitera all'ospedale di Cattinara, Trieste. 900 persone bloccate nella terra di mezzo che il nuovo decreto sul certificato verde, in vigore dal 6 agosto in Italia, non ha previsto. Ho aderito con entusiasmo alla sperimentazione del vaccino Reitera. Sono regolarmente vaccinata e immunizzata, tuttavia trattandosi di un vaccino non approvato da Lema non posso aderire al Green Pass. L'unica soluzione per me è fare i tamponi per poter svolgere le normali attività quotidiane autorizzate dal Green Pass. Non posso nemmeno vaccinarmi con altri vaccini ufficiali perché sarebbe estremamente pericoloso. Ritengo che sia una beffa aver fatto una buona azione ed essere invece penalizzati e equiparati ai no-vax. Lo scorso maggio la Corte dei Conti ha bloccato il finanziamento pubblico per realizzare la fase 3 della sperimentazione del vaccino Reitera. Dietro il no dell'organismo contabile è il fatto che il tecnopolo di Castel Romano avrebbe utilizzato i fondi pubblici anche per ampliare lo stabilimento. Un intopo non legato all'efficacia del prodotto dunque. Il vaccino dimostra infatti un'ottima risposta anticorpale. Tre settimane dopo la prima dose, il 93% dei volontari ha sviluppato una protezione contro il virus che raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione.